Il ruolo dell'impresa sociale nei territori rurali al centro del meeting di presentazione del progetto europeo ENSIE, nato da un protocollo di intesa tra 11 partner provenienti da 10 differenti paesi membri dell'Unione, tra cui l'Italia, rappresentata da due comuni, il comune di Penne, in Abruzzo, e il comune di Santa Severina, in Calabria. Nel corso del dibattito, al quale hanno preso parte i rappresentanti delle istituzioni ed esperti di impresa sociale, si sono analizzate opportunità e barriere, approfondendo il quadro della legistrazione italiana in confronto a quella europea ed evidenziando le buone prassi al fine di incentivare lo start-up ed impresa nell'economia sociale, nel contesto dei territori rurali e delle aree interne. Presente all'incontro anche i rappresentanti dei quattro paesi europei partner del progetto, Slovacchia, Serbia, Croazia e Portogallo. Il progetto europeo ENSI è nato da un protocollo d'intesa tra 11 partner appartenenti a 10 differenti paesi dell'Unione europea ed è un progetto che concerne principalmente lo start-up e lo sviluppo dell'impresa sociale all'interno delle aree rurali e dei territori rurali. Questo progetto ha voluto mettere in evidenza quella che è la risorsa del nostro territorio, quindi la ruralità, è andare a vedere e a verificare quali sono le opportunità per l'inclusione. Lo sviluppo dell'impresa sociale e dell'impresa rurale potrebbe essere un elemento di valorizzazione del territorio. La regione Abruzzo sta lavorando ormai da anni su tanti aspetti. Sull'Europa le regioni hanno una forza, una forte incidenza sulle scelte nelle fasi normativa, ma anche e soprattutto questa mattina abbiamo sentito su quello che sono poi i risvolti in termini economici nei bandi e nei finanziamenti europei. La strategia importante che ho dimostrato appena di essere avanti su questo percorso è quella di ragionare, di parlare e di portare i progetti insieme che vanno ormai l'unica via e l'unica dove si può attingere sono quelle dei fondi europei.